Chiudo semplicemente il sacchettino di carta velina, inserisco quindi la confezione. Con un altro pezzo di cordino leggo facendo un nodo. Prendo il nastro di raso animato, faccio un fiocco ricco, lo appoggio e lo leggo col cordino d'argento. Tagliato un pezzo della ghirlanda di perle, la leghiamo. Tagliato un pezzo di cordino leggo. Tagliato un pezzo di cordino leggo.